Nel giorno in cui a Roma si manifestava contro i provvedimenti del governo Monti, che imporranno tagli alla spesa pubblica di conseguenza su dipendenti e servizi erogati, sotto il palazzo della provincia di Asti, una delegazione della UIL ha scioperato in difesa dei posti di lavoro e dei servizi pubblici. Il sindacato, che insieme alla CGL ha aderito allo sciopero nazionale, fa sapere che dal prossimo 15 ottobre gli orari di lavoro dei dipendenti provinciali astigiani diminuiranno e che molti dei servizi che l'ente eroga per la collettività non saranno più garantiti a causa di tagli che dovrebbero concretizzarsi già nei prossimi giorni. La UIL lamenta norme non chiare in un clima di incertezza che lascia spaesati impiegati e dirigenti, che sostengono di non sapere fino a quando si potranno garantire servizi come la manutenzione delle strade extraurbane, il centro per l'impiego, che perde personale anno dopo anno, e per quanto riguarda gli edifici delle scuole superiori, gli operai attualmente impiegati per la manutenzione sono in tutto tre, per tutto il territorio astigiano. Accerchiata da un silenzio incomprensibile e assordante, la provincia di Asti muore. Questo è il manifesto che sintetizzava lo stato d'animo dei dipendenti pubblici che hanno protestato sotto il palazzo dell'ente astigiano. Il rischio è quello di essere messi in mobilità, di vedere vanificata la propria professionalità e di vedere demolire in questo benedetto paese il ceto medio. Molto spesso i nostri cittadini non conoscono le cose che fanno realmente i nostri lavoratori. Quindi è importante sensibilizzare la cittadinanza e la nazione sui problemi reali di questo paese.